Ci troviamo con il presidente del circolo tennis, Gino oggi siete qui per festeggiare i 40 anni del circolo tennis Barato. Raccantato da me la storia è un po' difficile perché io sono presidente da neanche un anno e sono un peserese da 6 anni, perciò amando tanto il tennis e frequentando questo circolo poi mi sono avvicinato sempre più, mi piace essere anche un po' prima nel direttivo, nel CDA per essere coinvolto nelle decisioni finché questo passo è presidente. La storia qual è? La storia di un gruppo di amici appassionati di tennis nel 79 che decidono per quale vicissitudine di distaccarsi dai circoli pesaresi e creano questo circolo, comprono la terra, impostano questa cosa, insomma tutte le vicissitudini finché il 2 agosto 1982 inaugurano i campi da tennis e oggi è 40 anni che giochiamo su questi campi, su questo bellissimo posto. Siamo 230 soci, abbiamo la top school, una scuola tennis con più di 130 ragazzini guidata da Luca Pavoni, un maestro federale di un certo rilievo, abbiamo 5 maestri che insegnano, tra questi ragazzini abbiamo Luca Nardi che è il nostro Fiorello Chiello e non soltanto della Baratof ma penso delle Marche e anche dell'Italia, uno dei nuovi giovani in crescita, il bello di vedere questi ragazzini che approcciano al tennis per un appassionato come me è gioia. Progetti futuri per questo circolo? Progetti futuri, imminente 2-3 campi da paddle perché oggi il paddle ne parlano tutti, ci giocano tutti, questa è la prima cosa, e poi anche rinnovare un po' le coperture che hanno 40 anni, un po' la struttura ha 40 anni, qui comincia ad avere anche se un quarantenne oggi nel pieno delle forze, le strutture no, e perciò questo è il nostro futuro.